Vedete il fallo di Fonseca sul ferro, palla altissima, maggio, e poi c'è Schigliacci, gol di Schigliacci, bravissimo ancora di Toto Schigliacci, e vedete l'entusiasmo degli azzurri, tiro di grande potenza e precisione di Toto Schigliacci, è stato bravissimo Schigliacci a seguire l'azione, ed è ad infilarsi in mezzo ai due di tre soldi centrali, e a tirare senza cambare la palla, prendendo in contropiede completamente il portiere, inoltre ha compito benissimo, con potenza e con precisione.